E buongiorno capo, hai permesso? Certo, prego, entra! Volevi parlarmi? Sì capo, allora, stavo guardando il design dei protagonisti di Nier Automata, no? Ma quella benda sugli occhi è davvero necessaria? Beh, ma sai benissimo che non è una semplice benda, no? È un visore speciale! Eh sì, ecco, appunto, visto che è un visore speciale, perché non mettiamo un visore speciale invece che una benda? Ma perché questo è il materiale che ci ha dato l'autore, no? E poi scusa, qual è il tuo problema? Sì, ma visto che quest'anime ha tutte le carte in tavola per diventare molto famoso, non pensa quei poveri cosplayer che dovranno andare in giro tutta la fiera con una benda sugli occhi? I cosplayer! Il tuo problema sono i cosplayer! Ma tu credi che un autore di anime o manga abbia mai pensato ai cosplayer? Parrucche di mille colori diversi, accessori impossibili da portare e da costruire, nessuno, e dico nessuno, ha mai pensato ai cosplayer! Appunto, proprio per questo, il nostro studio, almeno per questa volta, potrebbe fare un'eccezione! Ah, senti, coso, mi ha già fatto perdere abbastanza tempo, eh! Se vuoi, è così, se no, sei liberissimo di andarte! Benissimo! Allora, se la metti così, io me ne vado! Sì, ecco, andrò a Netflix! Sì, Netflix, che con il live action di One Piece faremo faville! Sì, sì, ecco, bravissimo! Vai a Netflix, vai, 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 ciao! Coglioni!